Quindi forse un po' ce l'avevo dentro, ripeto, ma in questo mestiere, come tanti altri, c'è stata anche un po' una botta di fortuna. Beh, sicuramente il talento è una premessa fondamentale. Ti abbiamo vista, in prova c'è ancora Prof, Caro Maestro, i Cesaroni, no? Per due serie. Sei stata Carlotta, la fidanzata di Walter, giusto? Sì, giustissimo. È un ruolo che ancora senti addosso o è stato facile, insomma, liberarti da questo personaggio? Perché sai, poi il pubblico associa sempre un po' ai personaggi che si interpretano. Ma, guarda, questa cosa di liberarti da un personaggio, a me dà fastidio molto quando i miei colleghi lo dicono. Nel senso, voglio uscire da questo...